Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi farò vedere tutti i ciucci che ho. Allora, vi faccio vedere il primo, questo qui, è viola con l'unicorno, vedi? E si illumina al buio. Poi, un altro ciuccio col topolino, che si illumina al buio con delle foglie, linee, fiorellini, credo. Poi, abbiamo un ciuccetto con la farfalla rosa. Poi, un altro ciuccio rosa con la mela, con la mela rosa un po' più scura. E un ciuccio azzurro con le stelle, vedete? Ecco, un ciuccio azzurro con le stelle. Poi, abbiamo un ciuccio con i fiocchi a po' e po' a. Un ciuccio di gomma marrone. Un ciuccio così, questo. E poi, ovviamente, questo ciuccio. Bene, spero che il video vi sia piaciuto. E ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti! Ciao a tutti!